ciao a tutti ben ritrovati sul canale ok oggi abbiamo qualche bellissima da grattare incominciamo con un dolce natale e buon venerdì a tutti amici ok vediamo dolce natale numero 5 della serie 33 e che lo vuole fare il miracolo di 33 ok vediamo un po se finiamo la buona così è troppo ok allora buona persona tutti amici e poi siamo la nostra gattata allora simbolo vincente abbiamo il tappo guante trombetta e fuoco ok poi incominciamo allora incominciamo con il calice continuiamo con un albero poi abbiamo il snowman pupaccio di neve poi abbiamo la slitta niente di fatto non c'è niente candela niente babbo natale neanche bottiglia noi abbiamo il tappo della e luna niente di fatto abbiamo un regalo niente il fattino non c'è il raggio neanche e la tombola niente numero 5 serie 33 buglietto per gente continuiamo con un puzzle numero 5 serie 44 gatti ecco vediamo un po con l'inquadratura della linea che c'è sempre un problema di inquadratura io non capisco il primo pezzettino ci dice 22 le babarelle vediamo 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 babarelle non ci sono sono andato a notare poi 56 eccolo qua seguo 49 49 49 non c'è abbiamo 23 13 14 che 14 37 eccolo guardiamo 14 eccolo e 32 niente 55 niente 42 eccolo 20 20 non c'è 70 neanche 59 eccolo qua 34 niente 16 unica possibilità 47 niente 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 otto dr c도 niente coda niente 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 numero 37 e serie 74 e vediamo che numero di fortunati, ok, 49, 49, non c'è, io non lo vedo, non c'è, 74, eccolo qua, terza colonna, abbiamo 80, eccolo, 58, non c'è, 22 barbarelle, ecco l'ultima colonna, ma non ci porta niente, l'ultima colonna, io ho puntato una volta con questa colonna, 69 intanto, abbiamo 42, 42, non lo vedo, abbiamo 61, ma, 71, ma, 41, ma, 61 non c'è, 27, niente, 44, neanche, 71, eccolo, ok, 72, eccolo, 51, eccolo, 56, non c'è, 41, ma non ci porta niente, l'ultima possibilità è 68, e che è preso in giro, anche stavolta, 68 non lo vedo, e non c'è, il 30 non c'è, il 43 non c'è, e il 16 non c'è, ok, via, passiamo alla tombola, numero 47, 56, ecco, 79, eccolo qua, 52, non c'è, 47, non c'è, 67, neanche, 27, eccolo, 25, non c'è, 44, neanche, e 14 ci manca, abbiamo 71, 61, non c'è, 22, eccolo, 55, eccolo, 31, 82, niente, 32, 57, no, non ci credo, 48, e 48, quaterna, amici, no, non ho male, quaterna, primo biglietto, vincente di oggi, allora, quaterna, abbiamo preso quattro numeri, vediamo le stelline, panettone, albero, e angelo, slitta, fuoco, e angelo, sì, abbiamo una vista, allora, l'angelo, si dice, 5 euro, e la quaterna, abbiamo, 5 euro, e vabbè, biglietto, vincente con 10 euro, e vabbè, prima, vincente di oggi, numero 47, passiamo all'ultimo bigliettino di oggi, forse, ne vediamo, se ci rimane ancora tempo, facciamo qualcos'altro, allora, numero 47, vincente, mettiamolo da parte, adesso, adesso passiamo a tutto per tutto, vediamo, questo, con le inquadrature, sempre, non capisco io, se non sono capace di inquadrare, ma, così va bene, allora, numero 21, abbiamo, 11, 31, 21, 25, 27, ok, primo numero, 39, 44 gatti, niente, 23, non c'è, 13 neanche, abbiamo 19, 12, c'è l'11, 15, e 43, niente, abbiamo, 37, 46, 38, e 17, niente, il biglietto, non c'è l'11, 15, carissime voi, ok, adesso, ci usiamo ancora una tombola, numero 46, sempre 56, ne guardiamo, 70, eccolo qua, 44, eccolo qua, 17, eccolo, 26, non c'è, 88, eccolo qua, 65, 89, 85, niente, 33, abbiamo fatto terno, amici, 60, non c'è, 0,7, 37, no, 27, non c'è, 54, neanche, 59, non c'è, e 25, non c'è, comunque abbiamo fatto un terno, ok, adesso passiamo le stelline, vediamo, allora, renna, cappello, e sfumante, e vediamo un po', caramella, regalo, e dolce, niente, abbiamo fatto un terno, che ci dice il terno, 5 euro, ok, ripreso il bullettino, comunque, meglio di niente, amici, e che bene, le dombole, ho fatto un terno, adesso passiamo, dolce, natale, e il primo del fatto, del fatto 33, ok, allora, candela, snowman, tombola, e trombetta, allora, punti dopo, calice, babbo natale, e fuoco, niente, abbiamo raggio, niente, angolo, angolo, non c'è, sfumante, neanche, e campana, non c'è, abbiamo la slitta, non ce l'abbiamo, il pattino, la stella, e l'album, niente, il biglietto non vincente, il numero 0, numero 0, questo è veramente l'ultimo di oggi, che è numero 13, Santa Lucia, speriamo, è il 38, il miracolo, se non è forzionato il suo biglietto, non sono anche io, allora, guanto, candela, cappello, e il fungitore, vediamo un po', la luna, ci dice, guardiamo il fuoco, il regalo, e la guirlanda, niente, diamo la campana, niente, capo, niente, angolo, non c'è, e stella, neanche, diamo tombola, sfumante, frutta, e snimani, niente, amici, niente, allora, cosa abbiamo combinato oggi, vediamo un po', allora, abbiamo grattato 3 biglietti da 5, e 1, 2, 3, 4, 5 biglietti da 3, e abbiamo ripreso 15 euro, se non sbaglio, si, 15 euro con le tombole, una quaterna, una quaterna e un angelo, si, sono 5, 5, 10, più qua un terno di 5, 5 euro, abbiamo avuto 15 euro, amici, ok, abbiamo fatto un recupero, comunque, meno male, non è andato a vuoto, vi ringrazio a tutti per la visione, vi auguro ancora una buona giornata, ciao a tutti, un bacio, un bacio alla luna, ciao, al prossimo video! Grazie a tutti!